ciao a tutti oggi andiamo avanti con la seconda parte dell'esercizio numero 2 nella seconda parte dobbiamo realizzare la seconda scena di questo filmato qua rivediamo un attimo quello che abbiamo fatto finora quindi noi abbiamo completato questa prima scena e adesso in questa seconda parte costruiremo questa seconda scena una scena marina in cui ritroviamo alcuni elementi che abbiamo già creato nella scena 1 per cui alcuni di questi li copieremo dalla scena 1 e li incolleremo nella scena 2 mentre altri elementi sono nuovi e appaiono per la prima volta in questa seconda scena bene quindi incominciamo col creare la composizione della scena 2 allora come al solito composition new composition do subito il nome scena 2 preset sempre i soliti hd tv 1080 25 la durata di ogni scena abbiamo deciso che è 10 secondi quindi duration 10 ok allora nella seconda scena mi serve un cielo identico a quello della scena 1 per cui la cosa più semplice è andare a copiare quello che si trova nella scena 1 e incollarlo direttamente nella scena 2 quindi subito torniamo nella timeline alla scena 1 vado a cercarla eccola qua ci clicco sopra scena 1 il cielo è l'ultimo livello che sta sullo sfondo ha un lucchetto quindi disattivo il lucchetto seleziono il livello cielo edit copy oppure control c ecco adesso è copiato torno nella scena 2 nella timeline e control v oppure edit paste eccoci qua quindi ho lo stesso identico cielo che avevo nella scena 1 perfetto adesso vediamo cos'altro ci può servire della scena 1 mi servono i raggi eccoli qua che avevo creato con degli effetti nella scena 1 e questi raggi sono centrati qua dietro il sole e hanno anche una rotazione lenta che probabilmente avevano anche quelli della scena 1 vediamo sì quindi torniamo alla scena 1 guardiamo un attimo i nostri raggi della scena 1 non hanno la rotazione ok mi ero dimenticato di fare l'animazione sulla rotazione di questi raggi quindi la faccio adesso e dopo che l'ho fatta copierò i raggi e li andrò a incollare anche nella scena 2 bene quindi per fare l'animazione sulla rotazione di questi raggi seleziono i raggi clicco il tasto r per evidenziare la proprietà rotation siccome una rotazione costante per tutta quanta la durata della composizione cosa faccio prendo il cursore vado al tempo 0 e metto un keyframe all'inizio quindi accendo l'orologio e un altro alla fine quindi prendo il cursore lo sposto in fondo e faccio fare a questi raggi vediamo un giro completo forse anche fin troppo quindi vado fino a 100 120 così vediamo adesso se può andare bene adesso che ho trovato la velocità giusta della rotazione dei raggi posso copiare questo livello raggi quindi lo seleziono di nuovo edit copy o ctrl c torno nella scena 2 questa volta utilizzo la scorciatoia ctrl v e naturalmente essendo una copia dei raggi della scena 1 anche questi hanno l'animazione sulla scala iniziale che però a noi nella scena numero 2 non serve perché i raggi sono diamo un'occhiata al filmato ok sono presenti qua ma non hanno l'ingrandimento cioè quando la scena 2 comincia i raggi sono già grandi quindi non ci serve l'animazione sulla scala bene quindi che faccio selezioni raggi tasto s per evidenziare la scala e spengo l'orologio della scala così elimino del tutto i keyframe quindi clicco sull'orologio l'animazione è sparita non ci sono più keyframe e quindi i raggi ruotano e basta però a me servono i raggi non in questa posizione ma circa in questa posizione qua quindi li prendo e li metto lì spostandoli mi accorgo che la lunghezza dei raggi non è sufficiente va bene corrego la scala l'aumento un po benissimo quindi diciamo che stanno lì perfetto torniamo a vedere il filmato per capire cosa ci serve nella scena 2 ci serve ancora un sole le nuvole sono tutti elementi che abbiamo già preparato in precedenza per cui possiamo adesso prendere di nuovo dalla finestra progetto gli elementi che ci servono per esempio incominciamo dalla nuvola e mi serve una nuvola un po più piccola qua benissimo l'animazione c'è già faccio una preview per vedere sì l'animazione c'è ancora benissimo andiamo avanti che altro mi serve un sole quindi prendo un sole lo metto qui probabilmente è molto grande lo riduco benissimo vediamo la posizione ok quindi mi serve un sole qua leggermente inclinato verso sinistra poi due nuvole intorno una dietro una davanti e un altro paio di nuvole qua allora il sole abbiamo detto un po più grande lo ruoto leggermente verso sinistra tasto r per la rotation lo inclino leggermente verso sinistra benissimo allora le altre nuvole sono questa qua piccola dietro poi ne voglio un'altra davanti un po più grande quindi che faccio duplico questa nuvola la seleziono edit duplicate bene la voglio davanti al sole quindi nella timeline la sposto a livello superiore al sole bene la metto qui e magari la ingrandisco leggermente giusto per nascondere un po il sole così magari spostiamo un po tutto più in alto sia il sole sia i raggi sia le nuvole così abbiamo più spazio sotto per il mare bene poi mi serve un altro paio di nuvole una qui e una qui quindi duplico ancora le nuvole quindi seleziono l'ultima control d questa volta la scorciatoia ne metto una qua un po più piccola poi duplico ancora control d e ne metto un'altra più piccola ancora magari qua ok poi vedremo se la posizione è corretta bene il cielo con i suoi elementi è a posto andiamo a vedere che altro ci serve adesso adesso in primo piano ci sono vari elementi ci sono le onde con dentro i pesci e la barca e qui sulla destra c'è una piccola collina con dei fiorellini e un faro sopra incominciamo con il creare questa collina con i fiori e il faro sopra bene nella finestra di progetto non ho un disegno pronto per la collina ma per fare una collina in questo caso posso prendere lo strumento ellisse con colorazione sfumata verde chiaro verde scuro e rapidamente mi creo una collina quindi facciamolo subito disattivo nella timeline tutti i livelli per fare ciò clicco in un punto dove non c'è nulla nella timeline qui per esempio e vado a creare un'ellisse seleziono lo strumento ellisse e questa volta lo disegno io a mano della grandezza che voglio quindi clicco trascino più o meno mi serve di questa grandezza qua bene la colorazione non è giusta però ha già la sfumatura radiale che mi serve vediamo che tipo di sfumatura mi serve è ok mi serve radiale verde chiaro verde più scuro benissimo allora cominciamo a correggere i colori vado sulla palette dei colori decido che il primo colore è un verde chiaro potrebbe essere tipo così e il colore più scuro invece potrebbe essere così ora adesso selezione ellipse con lo strumento selezione ho queste maniglie che mi permettono di modificare la sfumatura bene voglio il centro della sfumatura qua sulla sommità della collina e la sfumatura che arrivi fino in fondo bene rinominiamo questo shape layer lo seleziono lo chiamo collina ora mettiamo in cima questa collina il disegno del faro che abbiamo qui nella finestra di progetto eccolo qua è un disegno semplice non a livelli quindi lo aggiungo qua so che è un disegno vettoriale illustrator quindi siccome adesso sto per ingrandirlo è importante che io attivi quel pulsante qui sulla destra del nome che fa in modo che quando io ingrandisco il disegno non perde definizione e ingrandisco a mano questa volta clicco sul bordo trascino col tasto shift in modo che non si perda la proporzione e metto il faro più o meno in questa zona qua però lo voglio dietro la collina perché qui si vede che sta dietro la collina lo voglio anche un po più grande e dietro la collina quindi lo sposto qua la collina forse è un filo troppo grande spostiamo il faro più in qua la collina più in là benissimo ora sulla collina voglio qualche fiorellino benissimo il disegno fiore ce l'abbiamo eccolo qua lo prendo lo aggiungo subito finché mi ricordo accendo il pulsante per mantenere la caratteristica vettoriale e qui non dobbiamo fare altro che rimpicciolirli e piazzarli là dove ci servono quindi magari mi avvicino un po di più e ne metto uno qua poi rapidamente ctrl d duplico riduco riposiziono ctrl d ne creo un altro qui ctrl d ancora insomma rapidamente dobbiamo metterne un po qua e là ctrl d qualcun altro qui su in cima ctrl d ctrl d benissimo abbiamo un po di fiori sparsi qua e là qui naturalmente ognuno è libero di mettere dove li vuole e quanti ne vuole soprattutto benissimo adesso facciamo una cosa che non è strettamente necessaria ma utile cioè il disegno della collina e tutti i fiori che fanno parte di questa collina io direi di pre comporli in modo tale di avere qui nella timeline un unico livello al posto di questi 10 11 che adesso abbiamo giusto per risparmiare un po di spazio quindi seleziono tutti gli elementi che vanno dall'ultimo fiore fino alla collina quindi clicco sul primo fiore shift la collina e si selezionano tutti questi elementi intermedi e per fare in modo che vadano dentro una composizione cioè si pre compongano vado nel menu layer e dalla voce pre composo e chiamo questa pre composizione collina più fiori ed è la collina della scena 2 quindi specifico anche a quale scena appartiene do l'ok ora questa composizione a me nella finestra di progetto si è infilata nella cartella scena ecco non voglio che si mischi con le altre composizioni quindi che faccio innanzitutto crea una cartella nuova e la chiamo pre composizioni in modo che ogni volta che devo pre comporre qualche cosa per qualsiasi motivo lo vado a mettere all'interno di questa cartella bene allora la collina più fiori scena 2 è una pre composizione e la metto lì benissimo proseguiamo rimettiamo la dimensione della composizione più piccola ora cosa creiamo andiamo a vedere ora direi di creare il mare il mare è composto da quattro strati di onde ce n'è uno qui all'inizio poi c'è il secondo il terzo e il quarto dietro per creare un livello di onde abbiamo bisogno di un effetto quindi questa è una cosa che noi sappiamo quando dobbiamo creare qualcosa a partire da degli effetti partiamo sempre creando un livello solido quindi anche questa volta come per i raggi nella scena 1 crea un livello solido layer new solid make comp size per fare in modo che sia grande come la composizione lo chiamo profilo onde gli do anche il numero 1 in modo tale che questo è il primo profilo poi ce ne sarà un secondo un terzo e un quarto il colore bianco non va bene lo voglio azzurro quindi clicco la palette mi do un colore abbastanza acceso tipo così benissimo e do l'ok ok abbiamo un rettangolo azzurro adesso dobbiamo tagliare qui il profilo a forma di onda e ci facciamo aiutare da un effetto l'effetto lo trovo nel menu effetti è un effetto di transizione e si chiama cc jaws allora come funziona questo effetto bisogna agire sulla proprietà complexion per vedere come funziona ok crea una tendina ad aprirsi con un profilo così a punta sia sotto sia sopra ma noi il profilo superiore non interessa per fare in modo che non si veda il profilo superiore bisogna prendere il centro di questa transizione e spostarlo fuori in alto quindi vado nella proprietà center e la posizione verticale del center ecco la sposto verso l'alto mi faccio in modo che esca del tutto fuori in alto bene adesso il profilo di questa transizione rimane soltanto nella parte bassa quindi di nuovo lavoro sulla complexion e faccio in modo che il profilo stia nella parte bassa più o meno qua adesso dedichiamoci alla forma di questo profilo la proprietà che gestisce la forma si chiama shape eccola qui adesso è su spikes ma noi interessa onde quindi mettiamo waves eccole qua io ho bisogno di onde meno alte ma più lunghe e infatti qui abbiamo due proprietà che gestiscono appunto l'altezza eccola qui la mettiamo più o meno così magari 4% e poi le voglio un po' più lunghe quindi la width l'aumento tipo così adesso il profilo è ancora un po' troppo alto quindi aumento ancora un po' la complexion fino a quando non vado al livello giusto direi che più o meno così va bene ora guardate bene questo profilo che cosa ha lungo il bordo ha un'ombra un'ombra proiettata verso l'alto quindi subito lo seleziono menu effetti prospettiva drop shadow non si vede perché al momento l'ombra è proiettata verso il basso quindi questa volta è importante che io agisca sulla proprietà direction quindi prendo questa lancetta la sposto verso l'alto fino a quando eccola qua l'ombra è proiettata lungo la parte alta bene aumento la distanza anche un po' ma soprattutto non voglio un'ombra così netta ma sfumata per fare ciò c'è la proprietà softness che è a zero se l'aumento vedete che l'ombra sfuma però è un po' troppo forte abbasso un po' l'opacità e magari anziché colore nero quest'ombra apro la palette gli do un colore blu scuro così benissimo adesso magari posso di nuovo aumentare un pochino la distanza ok così va bene bene questo è il profilo onde in primo piano adesso ho bisogno di altri tre profili uno dietro l'altro e che stiano anche dietro la collina bene che faccio siccome un profilo l'ho già preparato adesso duplico questo livello qua profilo onde lo seleziono edit duplicate ho un profilo onde uno e un altro profilo onde uno adesso il profilo che sta dietro che è questo qua lo rinomino profilo onde 0 2 ok ma devo fare in modo che sia più in alto questo e per alzarlo in alto non lo sposto con la position ma uso la proprietà complexion il momento a 90 ma se la diminuisco ok il profilo sale verso l'alto e direi che come valore potrebbe andare bene così magari sposto il center leggermente verso sinistra in modo che il profilo delle onde sia incrociato rispetto al primo e così va bene quindi adesso ho due profili ma questo secondo profilo non voglio che stia davanti alla collina ma stia dietro quindi lo prendo nella timeline e lo sposto dietro il livello collina più fiori ecco fatto adesso ho bisogno di altri due livelli qua dietro quindi come prima seleziono profilo onde 2 ctrl d questa volta più rapidamente il numero 3 voglio che stia più in basso come livello e per alzarsi nella composizione uso la complexion di nuovo e sposto di nuovo la proprietà center in modo tale che si incrociano ne ho bisogno ancora un altro quindi ctrl d il 4 lo sposto dietro lo alzo di nuovo e lo incrocio così ok all'ultimo profilo diamo un'occhiata al filmato ecco non mi serve l'ombra ok mi serviva l'ombra fra i primi livelli di onde in modo tale che si capisse dove finiva una cominciava l'altro ma qui con il cielo sullo sfondo non voglio l'ombra quindi al profilo onde numero 4 lo seleziono vado nella finestra dove ci sono gli effetti seleziono drop shadow e tasto canc lo elimino non mi serve benissimo adesso ho quattro livelli di onde che fanno appunto un mare però questi livelli sono statici non si muovono avanti e indietro come invece succede vi faccio vedere nel filmato vedete che lentamente si muovono un po' a sinistra un po' a destra in modo casuale bene quando io voglio muovere qualche cosa in modo casuale come per esempio ci è successo per le parti della nuvola mi faccio aiutare dall'effetto vibrazione quindi incominciamo a creare un'animazione di vibrazione adatta per il primo profilo di onde quando abbiamo trovato i valori giusti poi li applichiamo anche agli altri tre livelli però in questo caso per spostare le onde a sinistra a destra non lavorerò sulla proprietà position vi faccio vedere perché clicco il tasto P guardate cosa succede quando sposto a sinistra e a destra il livello ecco qui l'effetto viene interrotto quindi ogni volta che mi sposto a sinistra a destra dalla parte opposta vedo che l'onda non c'è più manca quindi non è sulla proprietà position che io devo lavorare ctrl z ma devo lavorare sulla proprietà center dell'effetto cc jose quindi io l'effetto vibrazione lo devo far funzionare su quella proprietà lì center quindi per vedere le proprietà degli effetti nella timeline qua perché qua che poi attivo tutto si fa così vado nelle proprietà dell'effetto tasto destro reveal in timeline e questa proprietà appare qui nella timeline benissimo adesso seleziono la proprietà center e vediamo quali settings dare all'effetto vibrazione innanzitutto numero dimensioni 2 la proprietà center ha proprio due dimensioni c'è la componente x e la componente y quindi bene così poi io voglio che vibri soltanto in orizzontale ma non in verticale quindi disattivo la componente y qui le dimensioni quindi spengo y così vibrerà soltanto a sinistra e a destra bene al momento i valori sono che la vibrazione avverrà una volta ogni secondo quindi cambierà posizione una volta al secondo e l'ampiezza è 50 pixel di qua o di là io direi che l'ampiezza può anche aumentare possiamo provare a mettere anche 100 200 proviamo con 100 però probabilmente una volta al secondo è un po troppo veloce io abbasserei questo valore quindi un valore più piccolo di 1 lo si deve dare scrivendo 0 punto e non virgola punto magari 5 cioè la metà adesso seleziono la proprietà center e clicco il bottone applica i numeri sono diventati rossi il che significa che l'effetto vibrazione è stato applicato faccio una preview di qualche secondo vediamo cosa succede sì è un movimento ondulatorio avanti indietro abbastanza lento ma comunque visibile bene ok diciamo che può andar bene adesso io questi valori li applico identici anche agli altri tre livelli quindi seleziono il secondo profilo onde vado su center reveal in timeline seleziono center e applico poi la stessa cosa vado profilo onde numero 3 reveal in timeline center applica intanto posso chiudere anche gli altri poi vado sull'ultimo il numero 4 center reveal in timeline seleziono center applica bene tutte e quattro le onde adesso dovrebbero avere un movimento e ognuna dovrebbe muoversi in modo diverso vediamo se è vero sì quindi il mare è mosso ma ogni livello si muove per i fatti suoi bene cosa ci serve adesso prima di mettere la barca con la sua bandiera vediamo che dentro il mare ci sono questi pesci che emergono dalle onde fanno una parabola e si rimmergono vedete quello rosso poi c'è quello azzurro e poi c'è un altro viola cominciamo da quello rosso questo qui che compare fra la seconda e la terza onda e poi si rimmerge qui a sinistra quindi vado nella finestra di progetto cerco il disegno pesce eccolo qua lo prendo lo aggiungo alla timeline lo riduco in dimensione direi che più o meno va bene di questa grandezza quindi voglio che emerga tra la seconda e la terza onda qua e poi si rimmerga qui un filo più piccolo bene ok quindi se deve stare in mezzo alla seconda e la terza onda lo devo spostare nella timeline lì tra la seconda e la terza onda ecco qui dovrebbe essere nel posto giusto quindi parte così e poi si rimmerge qui quindi lo metto nella posizione di partenza che è questa poi facciamo in modo che a circa un secondo il pesce si trovi in quella posizione quindi clicco il tasto P position e accendo l'orologio di position per fissare questa posizione qua poi voglio che in un paio di secondi si trovi dalla parte opposta qui ok quindi avanzo due secondi prendo il pesce anche a mano questa volta non occorre che sia perfettamente dritto e voglio che poi dopo si rimmerga da queste parti qua perché non mi sono preoccupato della posizione centrale qui in alto perché per fare in modo che il pesce faccia questa parabola non occorrono tre keyframe basta che io prenda le maniglie del tracciato di movimento ecco e faccio in modo che il tracciato sia curvo in questo caso se io ruoto e trascino queste maniglie ecco che il percorso che unisce i due punti non è più rettilineo sott'acqua ma parabola fuori diamo un'occhiata facciamo una preview benissimo forse può essere anche un filo più lento però il problema qual è è che il pesce guardiamolo bene durante tutto questo movimento rimane sempre in posizione orizzontale per fare in modo che si metta in direzione della curva io devo attivare l'orientamento automatico quindi seleziono il pesce vado nel menu layer transform auto orient attivo orienta long path poi non è detto che a quel punto il pesce sia perfettamente orientato vediamo si cambia direzione mentre si muove solo che il disegno non è ben allineato fin dall'inizio ma sappiamo che quasi sempre dobbiamo intervenire direttamente sulla rotazione quindi clicco il tasto R e aggiusto la rotazione iniziale di quel che mi serve in questo caso 180 gradi 180 rivediamo il tutto attenzione che devo stare attento che tasto U per rivedere i keyframe torno sul primo keyframe go to gain failure e sto attento che il pesce deve stare un po' più sotto vado sull'ultimo keyframe e devo stare attento che la coda del pesce non si veda poi vediamo forse sì la dimensione del pesce è ancora un po' troppo grande lo riduco ancora un po' credo che adesso ci siamo perfetto ok questo primo pesce è sistemato benissimo ora mi servono altri due pesci andiamo nel secondo mi serve questo secondo pesce eccolo qui che emerge fra la terza e quarta onda e fa il percorso opposto e si rimmerge qua e poi anche un colore diverso cominciamo con il duplicare questo pesce quindi seleziono il pesce nella timeline CTRL D ho due pesci ma il secondo pesce questo voglio che si trovi fra la terza e la quarta onda quindi lo prendo e lo sposto nella timeline fra il profilo 3 e 4 poi che faccio seleziono il pesce clicco il tasto U per vedere i keyframe per spostare il punto di inizio che lo voglio a sinistra il punto d'arrivo alla fine posso agire a mano direttamente sui punto di partenza il punto d'arrivo quindi prendo il punto di partenza di questo secondo pesce e faccio in modo che si trovi qua sotto la terza onda qui a destra e il punto d'arrivo voglio che sia qua più o meno a questo punto l'arco non va bene ne rimetto a posto le maniglie potrebbe essere una cosa così vedete ecco questo è un caso un po' particolare perché per fare in modo che il pesce torni di nuovo dritto non basta agire sulla rotazione faccio notare se io provo a ruotare posso si riazzerare la rotazione però guardate la testa e la coda non riesco a sistemarla questo è un caso in cui devo invertire la testa e la coda per fare ciò c'è un comando nel menu layer ve lo faccio vedere layer transform flip horizontal e adesso lo attivo che fa inverte orizzontalmente il livello quindi ciò che si trovava a destra si trova a sinistra e viceversa in realtà che cosa è successo però vi faccio vedere apro la proprietà scala di questo pesce clicco il tasto s guardate i valori è stato aggiunto un meno davanti al parametro x della scala quindi si è invertita la scala x quindi avrei potuto anche io a mano invertire questo disegno mettendo un valore negativo alla scala x quindi adesso sappiamo anche questa nuova cosa qua naturalmente il pesce lo voglio un po' più piccolo quindi lo riduco anche un po' di più poi vediamo cos'altro devo modificare a parte il colore ok anche la tempistica non va bene perché attenzione pesce numero uno innanzitutto possiamo trimmare i suoi primi frame che non ci interessano ok trimmo via tutta la prima parte e posso trimmare anche gli ultimi frame perché il pesce si vede soltanto per un paio di secondi prima e dopo non si vede più la stessa cosa per il pesce numero 2 clicco il tasto U per vedere i keyframe trimmo l'inizio e trimmo la fine ecco però questo secondo pesce io voglio che venga fuori dall'acqua un po' più tardi quindi che faccio prendo proprio la barra di questo livello e la sposto più in avanti potrebbe essere una cosa più o meno così insomma prima il pesce numero uno e poi quando il primo pesce si è quasi immerso il secondo entra in scena vediamo se è vero quindi pesce 1 e un po' più tardi pesce 2 ah la durata della preview non basta e vediamo 1 2 bene adesso possiamo preoccuparci del colore devo modificare tutti i colori di questo pesce però voglio che il bianco e nero dell'occhio non vengano toccati per fare ciò esiste un effetto un effetto che agirà soltanto sulla componente colore del livello ma lascerà stare bianchi neri e grigi quindi seleziono il pesce vado nel menu effetti nella sezione color correction e l'effetto per modificare la hue and saturation cioè la tonalità e la saturazione dei colori quindi clicco qua si è aggiunto questo effetto e per cambiare un po' così random i colori di questo livello basta che io giro questa rotella della proprietà master hue vedete mentre sto girando cambiano solo i colori mentre il bianco e il nero dell'occhio non cambiano e volevo un azzurro quindi così benissimo quindi abbiamo il pesce numero 1 rosso poi uno più piccolo blu e adesso ne voglio un altro in primo piano eccolo qua che di nuovo emerge da destra e si rimerge a sinistra quindi duplicherò il pesce numero 1 che ha già il movimento adatto da destra a sinistra quindi seleziono il pesce numero 1 ctrl D prendo questo pesce lo metto dietro l'onda numero 1 e poi prendo l'inizio il punto di partenza e lo metto più o meno qua il punto d'arrivo più o meno qua e ingrandisco un poco il pesce vediamo se ci può andar bene magari una parabola un po' più grande ok e voglio che sia il terzo pesce ad entrare in scena quindi prendo la barra di questo pesce la sposto più avanti del pesce numero 2 quindi una cosa più o meno così e prima di fare la preview cambiamo subito il colore a questo pesce e quindi di nuovo anche a lui aggiungo l'effetto di prima effect color correction hue saturation e vogliamo un viola più o meno così ecco fatto adesso riguardiamo il tutto quindi pesce 1 il pesciolino numero 2 e il pesce numero 3 più grande in primo piano benissimo stop adesso ci preoccupiamo della barca con la sua bandiera quindi andiamo a cercarla nella finestra di progetto la barca è una composizione ok quindi doppio clic subito accendo i pulsanti per mantenere il vettoriale e questo mi fa ricordare che nella scena 2 mi sono dimenticato di attivare questi pulsanti nei pesci quindi 1 2 3 torniamo alla nostra barca qui cosa dobbiamo fare un po' quello che abbiamo fatto all'aeroplano cioè dobbiamo fare sventolare questa bandiera con una scritta sopra l'elemento barca non ha movimenti si muoverà poi tutto quanto nella scena 2 allora ha bisogno di una scritta andiamo a vedere cosa dobbiamo scrivere after effects tutorial e vogliamo che abbia le stesse impostazioni della scritta della scena 1 ricordate motion graphics ecco deve avere gli stessi caratteri le stesse colorazioni la stessa ombra per cui questo è un altro caso nel quale vado a copiare il livello testo della bandiera dell'aeroplano e lo incollo qua quindi facciamo questa cosa apriamo nella timeline la composizione aereo che ho qui pronta eccola qua seleziono il livello motion graphics edit copy o ctrl c vado nella composizione barca e incollo quindi edit paste eccolo qua lo metto nella posizione giusta e naturalmente correggo le parole che non sono giuste quindi doppio clic sul livello di testo seleziono la prima parte quella gialla e voglio scrivere after effects after effects ok in questo caso meno spazio fra le lettere magari un filo più grande ok così e invece nella parte sotto al posto di graphics voglio tutorials e anche qui forse meno spazio fra le lettere è un filo più grande e più vicino benissimo anche per questa bandiera come per la bandiera dell'aeroplano vogliamo quell'effetto sventolio in su e in giù che otteniamo con lo stesso effetto che abbiamo applicato alla scena 1 ok prima di risolvere questa cosa però ingrandiamo un poco i confini della composizione perché quando la bandiera si muoverà e su e in giù non ci sarà spazio a sufficienza quindi innanzitutto torno a lavorare con lo strumento selezione poi vado in composition composition settings e aumento soprattutto l'altezza direi che così è sufficiente è un pochino anche la larghezza quindi anche qui possiamo copiare l'effetto della scena 1 visto che dovrebbe funzionare esattamente allo stesso modo quindi andiamo nella composizione aereo e l'effetto se vi ricordate non è stato applicato ai livelli ma è stato applicato al livello di aggiustamento in questo caso nominato CC Bender che è il nome dell'effetto che è stato messo quindi seleziono proprio questo livello di aggiustamento lo copio CTRL C torno sulla barca e CTRL V vediamo dove si va a mettere esattamente proprio sopra i livelli bandiera e scritta quindi la posizione è giusta apriamo nella finestra effetto controls questo effetto qua e selezioniamolo anche dovremmo adesso di nuovo rivedere questi due cerchi con la croce che sono i punti che mi tengono fermo e muovono l'effetto cioè il punto base che è questo qui dovremmo metterlo nel punto dove la bandiera non si muove cioè qui dove la bandiera si attacca all'albero quindi facciamo come abbiamo fatto per l'aereo clicchiamo sul mirino di base e facciamo in modo che si trovi qua in modo che qui la bandiera non si muove non si distorce poi il top invece lo mettiamo all'estremità a destra della bandiera cioè qua e siccome i keyframe li avevamo già messi per fare in modo che s'alzasse e s'abbassasse dovrebbe già essere tutto pronto facciamo una preview e infatti quindi siamo a posto ci siamo adesso dobbiamo prendere questa composizione barca inserirla nella scena 2 e farla avanzare tra la terza e la quarta onda da questa posizione a quella bene torniamo nella scena 2 andiamo nella finestra di progetto prendiamo la composizione barca e la mettiamo giusto questa volta tra il profilo onde 3 e 4 e lo mettiamo anche dietro il pesce qua vediamo se è il posto giusto sì perfetto il piccolo pesce azzurro è davanti alla barca benissimo adesso vediamo che movimento far farà la barca quindi seleziono la barca tasto P per la position al tempo 0 ecco voglio che la barca sia un po' più in basso magari magari la dimensione un po' più grande appena appena e voglio che parta più o meno qua già ci siamo accorti di qualcosa che non va allora la posizione di partenza è giusta qua però guardate il faro che in questo momento si trova dietro la barca non va bene andiamo a cercare il livello faro che è qui e quel faro deve trovarsi dietro la collina ma davanti alla barca benissimo allora dicevamo la barca parte da questa posizione più o meno già all'interno della scena accendo l'orologio e dopo 10 secondi voglio che non esca completamente dalla scena ma voglio che vediamo arrivi più o meno qua in modo che la scritta After Effects sia sempre dentro la composizione vediamo se la velocità di avanzamento è giusta facciamo una preview sì direi di sì perfetto ok vorrei una cosa che mentre la barca avanza oscillasse leggermente lentamente un po' in su e un po' in giù un po' a caso quindi quando c'è di mezzo un movimento casuale vado sempre di effetto vibrazione e in questo caso sulla posizione quindi c'è già l'animazione da destra a sinistra in più gli si può aggiungere anche una vibrazione soltanto verticale leggera leggera di pochi pixel in su e in giù quindi seleziono position dimension vengo qui numero dimensioni 2 giusto voglio lavorare soltanto sulla vibrazione alto basso quindi spengo la x e accendo la y quindi vibrerà lentamente in su e in giù 0.5 quindi più lento di un secondo potrebbe andare bene 100 pixel in su o in giù massimo mi sembrano un po' troppi proviamo a dimezzare 50 proviamo applicare vediamo se la barca si inna bissa o si alza troppo oppure va bene così dovrei guardare un po' tutta la composizione per giudicare se in certi momenti è troppo sopra o certo sotto forse è un po' troppo si diminuiamo quel 50 lo portiamo a 30 e riapplico di nuovo riavvio bene quindi mentre la barca avanza anche un'oscillazione in su e in giù che altro ci manca per questa scena c'è tutto solo una cosa si manca giustamente la luce del faro che si sposta da destra a sinistra e poi torna indietro bene il disegno della luce del faro non ce l'abbiamo ma possiamo naturalmente disegnarlo noi a mano quindi che facciamo disattivo tutti i livelli prendo il pennino perché la forma non è una di quelle standard e disegno una forma che si allarga da qua in là quindi più o meno lo farei così un punto qui un altro più o meno qui poi un altro facciamo più o meno qui poi un altro più o meno là e poi un altro qua benissimo poi magari modificheremo il tutto ho bisogno di una sfumatura da qua in là quindi una sfumatura radiale va benissimo c'è già la sfumatura radiale sono un po' i colori che non vanno bene in questo caso quindi apro io voglio una luce gialla quindi clicco il primo pulsante e do un giallo giallo abbastanza chiaro direi così e anche alla fine qui prendo il contagocce e copio il primo giallo quindi ho tutto lo stesso colore perché in questo caso la sfumatura non è sul colore ma sull'opacità e come possiamo fare per fare in modo che all'inizio opaco qui e alla fine trasparente basta che io clicco sui pulsanti che stavano nella parte superiore della barra cioè questo qui e gli assegno un'opacità inferiore a 100 cioè vado fino a 0 quindi la sfumatura andrà da giallo a giallo però andrà da opaco a trasparente è proprio quello che serve a noi do l'ok seleziono il contenitore della forma che è lo shape prendo lo strumento selezione ed ecco qua le maniglie della sfumatura voglio che l'inizio della sfumatura sia qua e la fine sia qua magari qui è comunque troppo opaco quindi abbassiamo anche l'opacità generale di questa luce più o meno così guarda che si veda attraverso anche qua benissimo adesso rinominiamo questo shape layer che chiamiamo luce faro innanzitutto poi dobbiamo fare in modo che si sposti da sinistra a destra e poi torni indietro quindi cosa facciamo mettiamo l'anchor point qui e poi lavoreremo sulla scala x e basta in modo che si restringerà verso il centro poi si riallargerà dalla parte opposta e poi tornerà indietro quindi lì comincio a andare al tempo zero clicco il tasto s per evidenziare la scala sposto l'anchor point in questo punto qua posso farmi aiutare magari dalla palette move anchor point quindi la vado a cercare clicco sul lato destro e si va a posizionare qui può andar bene sì magari siamo un po' più precisi prendiamo lo strumento per spostarlo a mano mettiamolo noi a mano proprio qua ok adesso spengo la catena della proprietà scala nella timeline qua perché perché io voglio soltanto aumentare diminuire la scala x ed ecco che viene simulata questa rotazione però se andiamo a vedere un po' bene da vicino infatti spostiamola più o meno qua sarebbe bene anche correggere questi punti qui ecco così forse è meglio perfetto rispostiamo un po' più in qua e direi che così va bene allora facciamo in modo che tasto s di nuovo accendo l'orologio della scala e all'inizio il faro si trova in questa situazione facciamo dopo circa due secondi e mezzo va così facciamo quattro volte il fascio di luce si trova dalla parte opposta quindi circa meno 100 poi dopo altri due secondi e mezzo cioè a 5 lo riporto indietro anche se non siamo precisi non importa poi altro sette e mezzo la parte opposta ok e poi di nuovo indietro di qua bene mettiamo già che ci siamo subito easy ease a tutti quanti i keyframe quindi f9 e vediamo se la velocità è giusta può andar bene perfetto quindi la scena numero 2 è completata nella prossima parte dell'esercizio faremo la scena 3 quindi ancora ciao a tutti e ci vediamo alla prossima ciao